Ciao, oggi parliamo di stretching e nello specifico voglio proporvi 5 esercizi di stretching per la schiena utilissimi da fare dopo una sessione di allenamento o semplicemente per andare a favorire il rilassamento o allentare le tensioni. Cosa serve? Serve una colonna, un appoggio per le mani o un muro e un tappetino. Ecco a voi questi 5 esercizi. Buon allenamento! Oggi parliamo di stretching e nello specifico di stretching per la schiena. Il primo che vedete è un esercizi di stretching appunto di allungamento delle spalle e delle braccia ma anche della schiena serve un supporto, in questo caso una colonna, un muro, insomma un qualcosa che possa permetterci di tenere in questa posizione dove ho le ginocchia piegate, la schiena va giù, le braccia sono distese. E' importante tenere le ginocchia piegate perché devo andare a distendere il più possibile le braccia e anche la schiena. Secondo esercizio, in questo caso lavoro a incrocio, quindi mano destra, prendi il ginocchio sinistro, lo porta il più possibile verso il basso con il ginocchio tirato verso l'alto. La gamba sotto è distesa e il braccio opposto è disteso. Importante in questi esercizi di stretching è ascoltarsi, ascoltare il corpo e vedere anche come le articolazioni, come i vari segmenti del corpo rispondono e dove magari si tende a essere più mobili e dove invece meno mobili. Quindi ascoltatevi sia nella parte delle spalle sia nella parte della schiena che delle gambe. Naturalmente questo esercizio lo facciamo poi dall'altra parte, quindi in questo caso andiamo a prendere la gamba destra con il ginocchio destro, la gamba destra la raccogliamo con il braccio sinistro. Il braccio opposto è largo, libero, morbido. La gamba sotto è distesa. Bene, passiamo poi al terzo esercizio di stretching per la schiena. In questo caso mano sinistra raccoglie e tira, diciamo con una certa intensità, il ginocchio sinistro all'addome. Contemporaneamente l'altra parte del corpo, quindi braccio destro e gamba destra, sono distese. Quindi in questo caso proprio andiamo a separare il corpo in due metà. Una parte dove andremo a raccogliere il ginocchio, dall'altra parte invece braccio e gamba saranno distese. Naturalmente anche in questo caso andiamo a effettuare la stessa cosa, quindi cosa significa? Andiamo a prendere in questo caso il ginocchio destro con la mano destra e braccio sinistro e gamba sinistra invece saranno distesi. È importante appunto sentire la differenza tra destra e sinistra. Questi esercizi, questo esercizio ci permette anche di capire il nostro livello di mobilità delle spalle e anche dell'anca. Quindi possiamo capirlo appunto vedendo quanto un braccio va giù rispetto all'altro. Abbiamo poi il quarto esercizio e mi chiudo proprio a riccio. Abbiamo il sedere appoggiato ai talloni, la testa in appoggio sul tappeto e le braccia in questo caso vanno dietro, sono tese dietro. Cerchiamo di tenerle morbide e andiamo ad appoggiare il dorso, il dorso delle mani sul tappeto. Resto in posizione, come avete visto le varie posizioni, questo è il quarto esercizio, le ho tenute per 30 secondi. Diciamo la tenuta minima può andare dai 20-30 secondi o anche diciamo così a qualcosina in più. Ultimo esercizio, pancia in giù, mani vicino al corpo, distendo le braccia, inarco la schiena, guardo il soffitto. Cosa molto importante appunto abbiamo detto la tenuta degli esercizi dai 20-40 secondi, le serie. Posso ripetere questi esercizi per dalle 2 alle 4 serie, ottimo alla fine di una seduta di allenamento, ma anche alla fine, ma anche in realtà posso utilizzare questi esercizi semplicemente per allentare le tensioni e per rilassarmi. Ragazzi, provate questi 5 esercizi di stretching.